Il film si basa sulla documentazione dei fatti e degli eventi che hanno accompagnato la vita di Papa Giovanni Paolo II. Dio dei nostri padri, Tu hai scelto Abramo e la Sua discendenza. Perché il tuo nome fosse portato alle genti, siamo profondamente addolorati per il comportamento di quanti nella storia dell'umanità hanno recato sofferenza a questi Tuoi figli e chiedendoti perdono noi ci impegniamo a un'autentica fraternità con il popolo dell'alleanza ebrei e arabi. Dio dei padri, accogli la mia preghiera. Dio dei padri, accogli la mia preghiera. Dio dei padri, accogli la mia preghiera. Eccomi ancora a te, Santa Madre, a parlarti dal luogo dove il corpo del tuo figlio crocifisso è stato portato. A chiederti perdono per tutti i peccati della Chiesa Cattolica. Fa che non si ripetano mai più violenze di uomini contro altri uomini, mai più atti di discriminazione, di oppressione, disprezzo verso i poveri e gli indifesi. A te, Madre, la mia preghiera. Ah, mi hai preso. Scusa, Lolek. Quando torni al college? Domani. Finalmente riavrò la mia camera. Ma cosa ha, mamma? Non lo so. Dovresti, sei un dottore. Sto ancora facendo tirocini. Papà dice che le passerà. Sto ancora facendo tirocini. Sì. 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 Bravo, niente male per un cristiano. Sì, infatti, è stata la mano di Dio. Sì, infatti, è stata la mano di Dio. Lolek, porta a tua madre un bicchiere d'acqua. Madre, stavi pregando? Sì, Lolek. Posso pregare con te? Certamente. Lolek. Sì, mamma. Vieni qui. Ti voglio bene, Lolek, bambino mio. Ti voglio bene. Se X è uguale a dieci meno cinque, allora a cosa equivale Y? Vuoi te? Devi andare dal signor preside. Che cosa ha fatto? Cinto, se no ci manda anche te. Mi fai copiare? Non so come dirtelo, ma ho ricevuto delle notizie molto brutte per te. La tua... La tua dolce mamma è morta. La tua dolce mamma è morta. Io vi ringrazio per esservi uniti a noi in un momento così difficile per me e la mia famiglia. Grazie, grazie davvero. Stavamo leggendo il Salmo 89. Nessuno userà più questa stanza, Lolek. Te lo prometto. Dio ha voluto così. Mundak, sei ancora sveglio? Sì. Mamma adesso già in paradiso, vero? Certo, Lolek. Piangi, fratellino. Piangi, fratellino. Sfogati. Non trattenere il dolore. Sfogati. Almeno tu che puoi. Questo è l'ultimo. A domani. Padre. Sì, Lolek. Che c'è, figliolo? Dove stiamo andando? In un posto speciale. A Jasnagora. Perché? Perché lì c'è la Madonna Nera. Il santuario più famoso di tutta la Polonia. Stiamo andando a pregare per l'anima di tua madre. Non temere, Lolek. Inginocchiati al mio fianco e prega. Certamente ti ricordi quando ho pregato quel giorno per l'anima di mia madre, ma anche perché sostenessi quella del mio povero padre. Cosa leggi, Lolek? Una lettera da Mundek. Dice che ha imparato a imitare la voce del direttore dell'ospedale. Ah, sì? E che fingendosi lui ordina le infermiere cose ridicole. All'arte nel sangue, tuo fratello, come te. Cos'altro scrive? Dice che ha scoppiata un'epidemia di scarlattina nella città e quindi gli ospedali sono sempre pieni. E che spesso lui e gli altri dottori devono lavorare giorno e notte per prendersi cura dei pazienti. Dice anche che è molto triste perché sta morando tanta gente. Non sarà contagiato anche Mundek, vero? Mi scusi, mi è caduto l'intervento. Silenzio, silenzio. Silenzio, 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 sil Non poteva venire nessuno. Nessuno dei suoi colleghi può muoversi. Tutto l'ospedale è in quarantena. Ma mi hanno detto di riferirle che hanno fatto tutto il possibile per salvarlo, ma inutilmente, purtroppo. Edmund. Sta parlando di mio figlio Edmund. Sì. Ha abbandonato questa vita due giorni fa. Mi spiace tanto. Qui ci sono le sue cose. Grazie, sorella. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Ehi, sentite, che succede? Andiamo a vedere. Non si vede nulla. Abbr員, voglio un aereo. È proprio qui sopra. Mi sembra un aereo tedesco. Hanno lanciato dei volantini. È un avvertimento. No, è una minaccia. Che dice? Questo è un messaggio dell'Alto Comando tedesco alla popolazione polacca. Vi chiediamo di non resistere alle forze aeree e all'esercito del Terzo Reich. Questo è un avvertimento. Per il bene della nazione, non opponete resistenza. L'arroganza della Germania nazista non ha limiti. Dopo aver invaso impunemente la Cecoslovacchia, ora Hitler si accinge a invadere le nazioni più vicine per soddisfare la sua sete di potere. Pochi minuti fa, alcuni aerei della Luftwaffe hanno sorvolato i cieli della Polonia e su tutte le città hanno lanciato migliaia di volantini con la seguente scritta. Questo è un messaggio dall'Alto Comando tedesco alla popolazione polacca. Vi chiediamo di non resistere alle forze aeree e all'esercito del Terzo Reich. Questo è un avvertimento. Per il bene della nazione, non opponete resistenza. A posto, puoi passare. Vediamo. Il tuo nome? Con questo abbiamo finito. Andiamo. Bene. È una lista di nomi. Che significa? Mi da fuori i documenti. Svelta. Ecco. Qui c'è il nome della famiglia di Giosefa. Ma che significa? Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Mettine meno stavolta, l'Olet. Ma non lo so, non si capiscono nulla. Lui invece a che ora sta? E chi lo sa, è il quarto buon. È tutto sistemato. È a casa mia. Domenica alle tre. Ci contiamo, verrà. Certo. Ora torna tenere al posto. Quelle scatole sarebbero utili alla resistenza. Non potrebbero perderne un paio. Sei impazzito. Cos'è? Stai con i tedeschi? No. Allora hai paura? No. Ma non puoi combattere. Sei uno di quelli che se ne sta semplicemente a guardare che accade. No, non è così. Sei un codardo. Dai, passa! Forza, tira! Guarda che palleggio! Non puoi giocare solo tu! Soldati! Tutto a posto. Se ne sono andati. Che nuove? Nessuna, principe. Tranne che il mondo si è fatto onesto. Allora è prossimo il giorno del giudizio. Ma la vostra è notizia mendace. Consentite, miei amici, una domanda più precisa. Che cosa mai commetteste per meritare che la sorte vi mandasse in questa prigione? In prigione, mio signore. La Danimarca è una prigione. A codesto modo il mondo intero lo è. Croato! Vore me! Voi! Vivi con l'amore! Voi! Voi! Non puoi! Voi! Vivi! Voi! Voi! Famili! Voi! 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 Continuo a chiederti perché io, perché proprio io sono stato risparmiato, perché non Cristo, perché il disegno di Dio è ancora misterioso. Grazie a tutti. Grazie. Potresti patire la persecuzione, se non di peggio. Ne ho coscienza, ma voglio comunque andare avanti. Io sento che questa è la volontà di Dio. Non credo nella violenza e non so lottare se non amando. Bene. Allora vieni, unisciti a noi. Stavamo leggendo la seconda parte del libro di Isaia. Ego vox clamantis in deserto. Io sono la voce che grida nel deserto. Aprite la via del Signore. Un giorno le nostre preghiere furono esaudite. La bandiera dell'orrore del razzismo cadde e tornò la pace. E adesso, padre, tu andrai a Roma. Completerai lì i tuoi studi. Avrai modo di vedere con i tuoi occhi la città santa. Un giorno tornerai da noi arricchito nell'animo e ancora più saggio. Sai, Stani Stual, sono a Roma da due mesi, ma ancora non la ritrovo nell'immagine che me ne ero fatto. Come la immaginavi? Non saprei dirti. Credevo bastasse semplicemente andarsene in giro per scoprire la città, il Vaticano. Ma è come vedere una sfaccettatura di storia in ogni suo frammento, come in quegli antichi resti. È quello il vero volto di Roma? È come stare in tante città diverse. Sai cosa c'è? Questo è il tuo problema, Lole. Ma tu ragioni troppo. Secondo i Domenicani, all'uomo è impossibile ragionare troppo. È soltanto attraverso il ragionamento che a noi è possibile comprendere. Non oso ribattere. Tu sei molto più colto di me. Intendevo dire che di tanto in tanto potresti anche smettere di studiare e provare a divertirti. Devo averti annoiato coi miei discorsi. Mi scusi? Grazie. Non mi annoi. Non mi annoia mai ascoltarti. Ti ricordi quel giorno che abbiamo visto il Papa? Trasportato sul suo trono come un monarca medievale. Credevo ti piacessero i rituali. È così. Ma non quando sono falsati. Quando vedi il Papa mostrato alla gente così come si fa al circo, ho pensato che qualsiasi progetto possa avere un prete. Quando diventa Papa, lui e i suoi sogni restano chiusi in Vaticano. Un Papa non può uscire, non può predicare, non può incontrare le persone. È come un prigioniero di San Pietro. È così, caro il Voitiwa. Sotto sotto sei veramente un rivoluzionario. No, non farò intendere. Non lo sono mai stato. Non avevo mai pensato a te come un politico. Tu mi hai sempre detto di essere attratto dalla parte mistica della nostra fede. Lo sono. È per questo che sto per chiedere il permesso di entrare in monastero. Questo è assolutamente negato. C'è troppo in questa tua testa. Puoi star certo che non ti permetterò mai di ritirarti in un monastero. Io so che cosa hai in mente, Lolek. Tu vuoi ritirarti dal mondo. La Grange mi ha dato la tua tesi. Trova straordinario come hai trattato il tema della fede nelle opere di San Giovanni della Croce. Ma secondo lui trascorri troppo tempo nelle tue dissertazioni. Non c'è un tempo. Devo dire che in effetti trovo sia un ottimo lavoro. A mio avviso tu sei destinato a grandi cose. E quindi per prepararti al tuo cammino ho deciso di inviarti come coadiutore nella parrocchia di Negovizze. Forse non all'inizio. Ma col tempo ti sarà chiaro qual è il disegno divino che ti riguarda. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono Padre e voi, Dio. Benvenuto, Padre. Corpus Domini nostri, Jesus Christi, custodia t'anima meam, in vita eterna. Amo. Sanguis Domini nostri, Jesus Christi, custodia t'anima meam, in vita eterna. Amen. Il cardinale Wyszynski ti può ricevere. Dottorato in teologia a 28 anni, coadiutore della parrocchia di San Floriano, secondo dottorato a 34 anni, cattedra di teologia morale a L'Ublino. lei è un uomo degno di nota, padre Wojtyla. Non direi lo stesso, vostra eminenza. Oh, bando alla falsa modestia. È particolare un talento come il suo, raro. Ma credo lo sappia questo. Ho saputo che si diletta anche di poesia e di letteratura. È così, eminenza. Personalmente non ho mai tempo per dedicarmi alla poesia, ma credo possa costituire rifugio e ispirazione per tanti. Sì. E ora, al dunque, padre Wojtyla, il motivo per cui l'ho convocata è che grazie all'interessamento dell'arcivescovo Bajak, il suo nome è stato sottoposto a sua santità, che l'ha nominata vescovo titolare di Ombi e ausiliario di Cracovia. Vescovo? Ma... ma sono ancora giovane. Rimedierà, invecchierà col tempo. Ma mi conceda una personale considerazione. Io non la conosco, però, oltre a sapere che è un valente accademico, so che predilige un atteggiamento passivo nei confronti delle autorità comuniste, l'opposto di quello che ho io. Com'è possibile restarsene passivi di fronte a coloro che vorrebbero sconsacrare le nostre chiese e soffocare la nostra fede? Come vescovo, padre Wojtyla si accorgerà di quanto sia difficile perseverare in un atteggiamento da struzzo come il suo. di quanto sia difficile. Come... Voi, come... ... Entra, compagno. Entra, compagno. E' una comunità di lavoratori socialisti. Non gli servono, chiese. Davvero pensavi che la tua richiesta sarebbe stata accolta, compagno? Il partito sta lavorando per porre fine alle superstizioni medievali che hanno l'unico scopo di tenere sottomessa la gente. Dovresti leggere gli scritti del compagno Lenin. Noi stiamo costruendo un nuovo mondo, il mondo socialista. E non c'è spazio per il tuo Dio, per nessun Dio. Dio è morto, compagno. Sarebbe stato bello costruirla qui, vostra grazia. Non chiamarmi così. Non mi ci abituerò mai. Chiedo scusa, padre. Laggiù la gente aveva messo una grande croce. Due settimane fa i soldati l'hanno fatta togliere. Chiederò alle autorità il permesso di poter celebrare qui la messa alla veglia di Natale. Se le persone vinceranno la paura, verranno. Vostra grazia! Volevate pregare prima della messa? Sì. Guardate! È arrivato padre Moitigua. Padre, non ci fanno passare. Padre Moitigua, intervieni. Cosa succede? Indietro! Indietro! Mi capite? Ti prego, fa qualcosa. Facci passare. Padre Moitigua! Dove vai? Andiamo a assistere alla santa messa. Facci passare. Andiamo a assistere alla messa. Che vuoi tu? Sono il Vescovo Moitigua. Ho il permesso di celebrare la messa qui. Mostramelo. Fateci passare! Per favore! Fateci passare! Tu e queste persone potete passare. Nessun altro. Seguitemi. Non è giusto quello che state facendo. Preghiamo la Vergine Benedetta che mai più ci sia antagonismo fra gli uomini né violenza, mai più un uomo contro un altro. Preghiamo. Non potete passare! State indietro! 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 Fateli passare, che passino! Non sparate! Non sparate! È la veglia di Natale! Dobbiamo passare anche noi! Presta! Presta! Stanotte siamo nella grotta di Betlemme. Perché siamo qui? Questa deve essere la domanda. La prima domanda. Siamo qui perché Papa Giovanni XXIII ricevette l'improvvisa ispirazione dallo Spirito Santo. Lo invitò a farsi mezzo di una nuova Pentecoste, a rigenerare e riunire la Chiesa, Est e Ovest. Noi siamo tutti consapevoli dei nuovi problemi determinati dall'odierna situazione mondiale. Chi è che sta parlando? Vescovo Wojtyla della Polonia, Santità. Oppure che quelle che dà siano inadeguate. Ora, la domanda è, come può la Chiesa conservare una sua identità nel mondo moderno senza mai sacrificare o modificare la verità del suo messaggio, che non è messaggio dell'uomo, ma quello di Dio? Cos'è quella? Una pietra proveniente da San Pietro, benedetta da Sua Santità. Sarà la prima pietra della nostra nuova Chiesa. Non potremmo mai costruire una Chiesa. I comunisti hanno posto il veto. Pensi che i comunisti resteranno in eterno? Io temo di sì, vostra grazia. Sono convinto che il comunismo sia irreversibile. Credi davvero che un dogma possa perdurare quando degrada e avvilisce la vita degli uomini? Io ti esorto. Non dubitare. Non perdere mai la fiducia. Non scoraggiarti. Non devi strappare le radici dalle quali sei nato. Sua Santità ha insistito per poter venire in Polonia, ma loro hanno ancora rifiutato. E per punirli, o almeno credo, il Santo Padre mi ha fatto cardinale. Cardinale? Alla sua età? Allora, come mi chiamerai adesso? Mi spiace mi debba vedere così buitiva, ma non posso evitarlo. La mia artrite mi piega in due. Non aveva Erasmo definito l'artrite la malattia dei destinati alla longevità? Sai, questo è il motivo per cui è sempre piacevole incontrarti. non conosco quasi nessun altro in grado di affrontare questioni religiose facendo riferimento alla teoria marxista dell'alienazione, allo strutturalismo francese, ai lavori di Shakespeare. Tu metti tutto in discussione e a me piacciono le discussioni. mi fanno sentire di nuovo vitale. E oggigiorno io... io mi sento scoraggiato. Lo sto confessando solamente a te, sai. È in privato. Più mi avvicino alla morte, più sono attratto dalle cose mistiche. Davvero interessante il tuo ultimo discorso quando parlavi dell'infinita maestosità di Dio e della necessità di sperimentarla in assoluto raccoglimento, come i trappisti nei monasteri o come i beduini nel deserto o come i buddisti. Tu hai citato le opere di San Giovanni della Croce. Adoro quei versi. Te li ricordi? Sono ispirazione per me, di continuo. Allora noi cammineremo insieme nella Sua luce. Ricordami nelle tue preghiere, Voitiwa. Il mondo oggi è scioccato dall'improvvisa morte di Giovanni Paolo I. Papa Albino Luciani è morto nel sonno la scorsa notte per cause ancora non chiarite. Appena un mese dopo l'elezione di Giovanni Paolo I, il Collegio dei Cardinali dovrà quindi riunirsi per eleggere un nuovo pontefice. La domanda nella mente di ciascuno è chi sarà il prossimo Papa? E quella secondo me sarebbe la scelta più idonea. Non sono d'accordo. Perché mai? È un esponente di grande valore. Non lo metto in dubbio, ma è una cosa nata a tutti. Sui ultimi discorsi lo discostano ampiamente da nostri comuni. I nostri amici italiani stanno già discutendo. ma stanno solo decidendo chi eleggere tra loro come nuovo Papa. Siri, Siri, Benelli, Benelli, Siri, Benelli, Boitewa. Siri, Siri, Benelli, Benelli, Siri, Siri… Sì? No, no, la prego, stia comodo. Siamo già alla terza votazione. L'elezione di un Papa italiano sembra sempre più improbabile. Ho avuto un colloquio con il Cardinale König della Germania e lui mi ha chiesto di consultarmi con te. Ecco, è pronto a sostenere il tuo nome, ma occorre il tuo permesso. Ma questo è impossibile. No, non è impossibile. Hai già dalla tua un consistente, seppur non sufficiente, numero di voti. König ha promesso un blocco compatto europeo, in cima al quale il Cardinale Kroll aggiungerà quello del Nord America. Ciò vuol dire che serviranno solo una manciata di voti per la tua elezione. Adesso io devo sapere se tu accetterai o no la nomina. Eccellenza, vi imploro, non chiedetemi questo. Non te lo sto chiedendo. Se sarai eletto, non sarà per nostra decisione. Sarà per decisione di Dio. Ma non devi rifiutare. Non deluderlo. Se verrai eletto, sarà tuo compito accettare per la nostra Polonia. Abbemus Papam. Tu vuoi accettare? Per obbedienza alla fede in Cristo, mio Signore. E confidando nella Madre di Cristo e nella Chiesa. Malgrado il grave compito che mi attende, io accetto. Cari fratelli e sorelle, siamo ancora tutti addolorati per la morte del nostro amatissimo Giovanni Paolo I. E oggi i Cardinali hanno chiamato un nuovo Pescovo di Roma. Lo hanno chiamato da una terra lontana. Lontana. Ma allo stesso tempo resa vicina attraverso la comunione nella fede, nella tradizione cristiana. e così mi presento a voi, a voi tutti, per obbedienza verso nostro Signore Gesù Cristo, nella speranza e nella fiducia totale verso Sua Madre, la Madonna Santissima. Annunzio Vobis Gaudium Magnum. Abbemus Papam, Dominum Carolum Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Boitiua. Quisi binomen imposuit, Ioannem Paolo II. Sto per intraprendere il cammino sulla via della storia e della Chiesa. Confido nell'aiuto di Dio e nell'aiuto dei popoli tutti. Sono tutti i Suoi averi, Santo Padre? Perché avere altro? Ho viaggiato per vivere e vivo per viaggiare. Santa Madre, credimi, mi sento obbligato a portare la parola di Dio alle genti del mondo. Lo faccio per l'amore verso gli altri. Non cessero mai di dire loro, non abbiate paura. Aprite i vostri cuori e spalancate le porte a Cristo. No, resta in piedi, Cardinale Viscinski, come dovrai sempre fare. ti devo davvero tanto. Senza di te e la tua fede non ci sarebbe stato nessun Papa polacco. Santità. Benvenuto. che Dio sia lodato. Santità. Santo Padre. Mi permette di presentarle il Ministro della Difesa, Generale Ieruzelski. Sì. Santo Padre, da questa parte. Da questa parte. Prego. Guarda da questa parte. Santità. E per l'astanza. Grazie. Papa vuoi digua. Sì. 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 a Roma quanto non sia facile lasciarsi Varsavia o Cracovia alle spalle. Il mio cuore non cesserà mai di sentirsi unito a voi. Vi amiamo, Papa Vodiva! Vita, Papa Vodiva! Santa Madre, perdonami. Nella mia vita ho sempre cercato in me l'umiltà. L'ho trovata troppo raramente. Perdona il mio orgoglio, perché per orgoglio io ho commesso degli errori. Questo lo confesso a te. La ringrazio molto. Monsignor Givis, Arcivescovo Romero, è un piacere vederla di nuovo. È possibile che Sua Santità mi conceda l'udienza oggi? Beh, ecco, è possibile, Vostra Eccellenza, ma sfortunatamente non molto probabile. Il Santo Padre ho berato dalle richieste. Certo, capisco, ma sono settimane che sono qui a Roma. Ora, perché convocarmi e non ricevermi? Vedrò cosa posso fare, Eccellenza. Grazie, Monsignore, grazie. In El Salvador, Santo Padre, il governo assassina tanto i preti quanto i salvadoregni. E la situazione peggiora ogni giorno. Un sacerdote è stato ucciso mentre si recava di remessa. Il mio mandato sembra quello di seppellire cadaveri. Arcivescovo Romero, io capisco la vostra sofferenza e la condivido con voi. Però l'insegnamento della cosiddetta teologia della liberazione è francamente un errore. Non è teologia quella, è marxismo. Col dovuto rispetto, Santo Padre, se pensate questo, allora siete voi quello in errore. Credo non sappiate quante lamentele ho ricevuto dai vostri vescovi di El Salvador circa il vostro modo di predicare. Oh sì, io insegno solo i Vangeli, Santo Padre. Non parlava Cristo in favore dei poveri e degli oppressi? Io faccio questo. No, voi state minando la Chiesa e io non lo consento. Io vi ammiro. Nessuno quanto me ha accolto con gioia la vostra elezione. Provenite dall'Europa dell'Est, conoscete la tirannia e l'oppressione. Voi siete un liberatore dello spirito e della persona. Ma ho l'impressione che non comprendiate l'America Latina. Non è come la Polonia. Combattiamo la stessa battaglia, ma con modi differenti, in una lingua diversa. Ma comunque, avendo l'esempio di Cristo davanti a noi, quelli che parlano per i poveri e gli oppressi sono tutti disposti al martirio. Ascoltatemi. Voi dovete riconciliarvi con la Chiesa. Quindi con gli oppressori... Non potete predicare il comunismo e aspettarvi che vi abbracci. Santo Padre, vi prego, lasciatemi spiegare. No, voi dovete imparare a vivere in sintonia con i vostri Vescovi. Ci deve essere disciplina nella Chiesa, così come in una famiglia. Dovete sottomettervi all'autorità, Arcivescovo. Santità, terrò a mente tutto quello che avete detto. Che Dio vi benedica e vi aiuti nel vostro compito. Anche a voi. E' in errore. Dio dice no matà. E' legge sacra, non uccidere. L'uomo, seppure obbligato, non può ignorare o stravolgere questo sacro comandamento di Dio. Coloro che hanno sulla coscienza il peso di questo peccato dovranno capire. Dovranno pentirsi, pentirsi. Un giorno tutti dovremo affrontare il sommo giudizio di Dio. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Fate questo in memoria di me. Questo è il calice del mio sangue, versato per voi. Fate questo in memoria di me. Per questa terribile colpa, fratello mio, perdonami. Per questa terribile colpa, fratello mio, perdonami. Almeno voi sapete cosa succede? Quello che so non è confortante. E' stato colpito due volte nel plesso toracico. Ha perso molto sangue. Ma il chirurgo è il migliore in Italia. Preghiamo che Dio gli aiuti. Preghiamo che Dio. Preghiamo che Dio. ha qualche probabilità di farcela. Non abbiamo notizie sulle condizioni del Papa, ma sono trapelate indiscrezioni sul folle assalitore bloccato dalla folla in piazza San Pietro. Alcune fonti hanno già insinuato che l'attentatore stesse probabilmente lavorando agli ordini dei servizi segreti anti-occidentali. L'uomo è già stato identificato. Si tratta di un turco di nome Ali Agcha. Nella sostanza è stato scoperto un biglietto con scritto un appunto inquietante. Io ucciderò il Papa. Io ucciderò il Papa. Ma in realtà è vivo perché il proiettile ha mancato di un soffio gli organi vitali. La mano divina della Madre Santa ha deviato il proiettile. Tu fumi troppo, Francesco, ti fa male. Lo so. Anche mangiare troppo, nuoce. Voi siete sovrappeso, avete bisogno di iniziare una dieta. Vado, gli altri pazienti mi aspettano. Vi ho portato le carte che mi avete chiesto. Ma vi imploro, non lavorate, santità. Devo lavorare. Non darti pena per me. Sai, io ho pensato molto all'uomo che mi ha sparato. Ali Agcha. Se ha agito per conto suo, o ce ne sono altri, chi gli ha armato la mano? Sicuramente lo scopriremo. Non è per questo. Nel mondo terreno si ferma alle cose terrene. Tutti state in pena per me. Ma io sono un uomo avvicinato a Cristo tramite il dolore. Ora soltanto capisco il profondo significato della sofferenza di Giobbe. L'amore è la giusta risposta alle prove a cui Dio ci sottopone. Se Agcha facesse qualcosa di strano, non vi preoccupate. Nella cella ci saranno due guardie oltre me e l'operatore. Non volevo credere che vi avrei mai incontrato. Vuoi ancora uccidermi? No. Chi sei? Non lo so. È la verità. Ecco, a volte... A volte penso di essere il Cristo risorto. Il Cristo risorto? Sì. Sento delle voci che mi parlano. Tu credi che il Cristo risorto ucciderebbe un suo messaggero e servitore? No. Ho voluto vederti perché volevo dirti che ti perdono. Io ti perdono con tutto il mio cuore e prego per te. Ho tanta paura. Confidati. Cosa procura tanta paura alla tua anima? Il peccato che ho commesso. Sarò tormentato per sempre. Nelle mie prossime vite. È questo che mi spaventa. Non in questa vita, ma nelle prossime. Io sarò duramente punito. So che è così. Mi sarà precluso il paradiso. Per favore, ascoltami. Non devi essere spaventato. Dio ti ama. E se tu sei amato, cosa c'è di cui aver paura? Grazie. I sovietici hanno disposto truppe e carri armati ai confini polacchi. Voglio che mandi un messaggio a Brezhnev. Digli che se i sovietici invadono la Polonia, io rinuncerò al trono di San Pietro e mi recherò dietro le barricate con i miei fratelli polacchi. Sì, Santo Padre. L'attesa è terminata. In questa fredda giornata di dicembre, le linee telefoniche a Varsavia sono fuori uso. Blocchi stradali isolano la città. Colonne di carri armati hanno invaso la capitale. Il presidente Ieroseski ha proclamato la legge marziale, bandendo Solidarnosc e imprigionandone i capi, incluso l'Ekvoa Wensa. Hanno ridotto l'intero paese a un campo di concentramento. Ho chiesto la vostra presenza qui. perché desidero spiegarvi le motivazioni del mio agire. Non è stata una decisione facile, credetemi. Ma se non avessi fatto quello che ho fatto, oggi non ci sarebbero carri polacchi, ma quelli sovietici e della Germania dell'Est per le nostre strade. Già, ma restano carri armati. Non mi aspetto alcun plauso per le mie azioni. Ma sta di fatto che ho salvato la Polonia. Io ho salvato il mio paese. Perché dovrei vergognarmi? Non ho ceduto ai sovietici. Ho detto loro è un affare interno, non interferite. Ciò nonostante, avete fatto ciò che volevano. Il popolo mi disprezza. Lo so. Dicono che sono un impiegato del Cremlino. Dicono che mi nascondo dietro a questi occhiali perché mi vergogno di aver tradito il mio paese. Ma non è la verità. Li porto perché i miei occhi sono gravemente danneggiati. Quando i russi invasero la Polonia occidentale, fui spedito in un gulag in Siberia. Avevo solo 17 anni. Fui costretto a lavorare tutto il giorno con i riflessi accecanti della neve. e la notte leggevo i classici russi per consolarmi alla flebile luce di una candela. Queste cose le hanno rovinati. Io sono un patriota. Quando siete stato eletto Papa, ho gioito segretamente. Ma voi capite? Il mio compito è difficile. Sì, certo, lo capisco. Non ne sono così sicuro. Come fratello patriota, lasciate che vi abbracci. Vi sono grato che in questi difficili giorni voi mostriate controllo e moderazione. Io non posso riabilitare Solidarnosc. Ma il dialogo con la Chiesa può crescere e rafforzarsi. Bene. Ma non sono sicuro che deciderete di fare un distinguo tra Solidarnosc e la Chiesa. Tutti i popoli amano un Dio e hanno stesse richieste. Io vi metto in guardia, generale. Questo movimento non può essere fermato. Tantomeno alzerò io un dito per farlo. Grazie ancora, Santa Madre, per quanto accadde poi in Polonia e nel mondo e per l'opportunità che ciò diede a milioni di persone di assaporare la libertà. Santo Padre, dovete riposare. Amico mio, avrò tutta l'eternità per riposare. Vi dico questo perché la Polonia è mia madre. è la mia madre terra. Voi che siete i miei fratelli e sorelle. Troppo in fretta avete abbracciato il piacere materiale, il germe del capitalismo troppo velocemente vi ha allontanati da Dio. So bene che oggi è atteggiamento diffuso rifiutarsi di ammettere che il comunismo ha note positive, quantomeno perché l'ideologia comunista promuove attenzione verso gli indigenti e un'idea di società che non premia l'individualismo. Per carità vi imploro, non abbracciate una cultura devastatrice, una cultura che calpesta la morale, non ha alcun rispetto per i più deboli e i più fragili e che mina la sacra dignità della famiglia, fulcro della società e della Chiesa. Pensateci. Santa Madre, dammi la forza di resistere. Salvare l'uomo non vuol dire soltanto non ucciderlo, non mutilarlo, non torturarlo. significa anche dare alla fame e alla sete di giustizia che gli cova dentro la possibilità di essere soddisfatta. Dio. Si sente male? Ho chiamato un dottore! Presto! Correte! Come vi sentite, Santità? Oh, non c'è male, dal collo in su. Voglio che vi riposiate. Appena sarete dimesso, voglio che vi trasferiate a Castel Gandolfo per ristabilirvi. Dopo di ciò ridurremo i vostri appuntamenti e cancelleremo i prossimi viaggi. Al momento i vostri programmi sono sospesi. Santo Padre, ascoltate. Ascoltate ciò che il vostro fisico sta chiedendo. Tu vuoi preservarmi dal dolore, dalla sofferenza. Ti ringrazio. Ma io divento sempre più cosciente dell'importanza fondamentale della sofferenza per la vita della Chiesa. Ascolta, quando ero giovane, i vecchi e i sofferenti mi facevano paura. Cercavo di evitarli. C'è voluto tanto tempo perché potessi capire lo spirito profondo che si cela nel mistero della sofferenza, nella debolezza della malattia. Io ho intravisto la possibilità di una forza, la forza della pietà. Vi capisco, Santo Padre, ma ve ne prego, dormite. La malattia suscita pietà, ma io non mi vergogno del mio soffrire. Le persone, oggi più di ieri, hanno paura della morte. non vogliono confrontarsi con la mortalità. Riefiutano la vecchiaia per non prendere coscienza di dover morire. Ma, Santo Padre, voi siete un simbolo per le persone. Ma sono anche un povero mortale, Monsignore. Soprattutto un essere umano. Proprio come lo era Cristo. Tu credi davvero che potesse scendere dalla croce? Io vi esorto a non porre limiti alla speranza. Siete giovani. Se non siete pieni di speranza voi, nessuno lo è. È vero che accadono cose orribili. Il male si è sempre manifestato. Eppure, non vi è mai ragione per essere pessimisti o non sperare più. Vi prego, miei giovani figli, di non dubitare, non scoraggiarvi, non lasciarvi mai intimorire. Soddisfate l'esigenza di arricchire la vostra coscienza alimentando la speranza. Questo è il compito di voi giovani. Mi dispiace dirvelo, ma ci sono... nuove denunce di abusi su bambini contro alcuni preti americani. Si dice che i vescovi non abbiano preso alcun provvedimento, anzi, abbiano cercato di insabbiare tutto. Come in una cospirazione? Sì, come in una cospirazione. Si è detta la verità. È che non c'è posto nel clero per coloro che fanno del male ai bambini. Perdonate, santità, ma la chiesa statunitense è in tumulto. Accusando loro si accusa voi. Accetto qualsiasi critica. Alcune persone nella chiesa hanno commesso gravi peccati. Io ho chiesto sinceramente perdono di questo. Stavolta il perdono potrebbe costare milioni di dollari. perché invece non sollevare la chiesa in generale da qualsiasi responsabilità? Molte scuole e chiese verranno chiuse. Allora io ti domando se l'uomo in cui tu confidi, l'uomo che consideri un padre, se quell'uomo abusasse di te per esaltare il suo egoismo e per soddisfare la sua lussuria, tu potresti mai perdonarlo. Ma santo padre, voi mi avete insegnato che tutti i peccati possono essere perdonati. Certo. Ma da Nostro Signore, non da me. Ho perché è un percorso che le caratteri sono appena. Allora se lascia un hiero. Ciao, ciao, ciao! Ho, ciao, ciao! Ciao, ciao, ciao! Grazie. 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 Santità. È vicino. Sì. Ricorda cosa hai insegnato. Alla fine della nostra vita, tutti noi saremo giudicati con amore. Abbiate paura. Nel nome del Figlio ti ha chiamato. E che attraverso lo Spirito Santo ti ha illuminato. Sali in cielo, anima cristiana. Lascia che gli angeli ti accolgano e ti conducano alla tua eterna casa. Passa tu a sorgere accanto al Salvatore in paradiso. Ancora. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.